Luca Mazzona nasce a Terlizzi in provincia di Bari il 3 maggio del 1971. Nel 1990 un tuffo nel mare lo rende tetraplegico all'età di 19 anni. Da sempre pratica diversi sport e dopo l'incidente decide di continuare a praticare attività fisica dedicandosi al nuoto paralimpico. Nel 2000 partecipa alle Paralimpiadi di Sydney e conquista subito due argenti. Partecipa inoltre due mondiali e conquista tre medaglie di bronzo. Nel 2004 prende parte alle Paralimpiadi di Atene. Quattro anni dopo ci riprova ai giochi paralimpici di Pecchino 2008 ma non riesce a tornare a casa con una medaglia e annuncia il suo ritiro dalle vasche. Ma Luca non riesce a vivere senza sport e senza sfide. Così decide di superare i propri limiti e intraprendere una nuova avventura chiamata Andy Bike, già provata nel 2004 come allenamento aggiuntivo a nuoto. In poco tempo Luca Mazzone passa dalle passeggiate alle maratone e alle gare internazionali. Nel 2012 è in forza al circolo canottieri a Niene e conquista ripetutamente medaglie ridate e quindi titoli italiani nella prova in linea individuale. Poco dopo arriva la chiamata dei cittadini nazionali di ciclismo paralimpico Mario Valentini e Luca si classifica per i mondiali in Canada nel 2013. Tre medaglie d'oro. L'anno successivo la vuota dei mondiali a Gremby nel 2014 nel Sud Carolina. Luca Mazzone vince due ori. Inarrestabile vince anche in Spagna alla Coppa del Mondo. Nel 2015 ripete la tripletta conquistata già nel 2013 ai mondiali a Nottingham in Svizzera. Si aggiudica tre medaglie ridate sempre nella crono, nella gara in linea e nella staffetta. E soprattutto arriva la qualificazione alle Parampiedi di Rio di generale 2016. E poi arriva la chiamata in Svizzera. 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 E poi arriva la chiamata in Svizzera.